Musica Mauro Fiorentino Doc Nel settembre 2013 ci saranno i mondiali di Toscana in quattro città, Firenze sarà grande protagonista, tu riproduci maglie bellissime del ciclismo d'epoca, il ciclismo quindi è ancora vera passione? Il ciclismo è una vera passione e ce la portiamo dietro da anni, noi riproduciamo l'abbigliamento vintage come era una volta, lo facciamo su richiesta in base ai nostri clienti è anche una passione da parte nostra se no non potremmo fare quello che facciamo Siamo davanti a una delle foto più rappresentative di Coppi che prende la borraccia dal grande Gino, il nostro ginettone nazionale ma soprattutto toscano Cosa direbbe Gino vedendo il mondiale nella sua Toscana? Eh, gli toccherebbe camparati cento anni, gli toccherebbe, penso eh, perché vedendo tutto questo abbigliamento, tutto questo sistema, tutto quello è nato diciamo dal vintage, dall'epoca, da tutte queste situazioni potessero tornare indietro tutta questa gente, lo sai che soddisfazione sarebbe Grazie a tutti